Ciao a tutti dal Salutatore, grandissima sorpresa, eccomi qui con Daniele Spizzio, c'è una sorpresa per voi? Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti gli amici del Salutatore del Web. Allora, sarò presente il 2 febbraio su DJ TV, canale 9 del Dicitale Terrestre, per una nuova serie che si intitola Sangue del tuo sangue, nella puntata una famiglia a pezzi, nel ruolo di commissario, quindi vi aspetto perché non vi vedete sanguinolento, quindi vi aspetto su DJ TV, mi raccomando, 2 febbraio, ore 21, 21 e 15 circa. Grazie, ciao Cristiano. Ti ringrazio, un saluto a tutto il Web, dal Salutatore e da Daniele Spizzico. Ciao. Ciao.